Ecco io credo che uno dei più grandi comici, sì, uno dei più grandi comici italiani che ha rappresentato l'arte, la cultura, il cinema, la musica perché ha cantato anche canzoni di grande successo, che ha fatto peare tutti i bambini d'Italia e quindi un grande eclettico artista con origini marchigiane. Le origini marchigiane sono quelle che mi appartengono di più perché di solito ci si forma nell'infanzia e la mia infanzia io l'ho tutta quanta passata qua, soprattutto l'estate, perché vengo la mia mamma e quindi tutta la mia famiglia con la quale poi sono vissuto a lungo perché sono vissuto sempre con la famiglia di mia madre. Erano di Fano, mio nonno di Senigallia e tanti altri parenti a Pesaro, quindi per me questo triangolo delle Bermude, che in verità è un triangolo marchigiano, è un luogo che mi appartiene. A questo devi aggiungere che ho praticato e continuato a vivere in tutta questa zona, che conosco, credo di conoscerla meglio dei marchigiani perché vado in posti dove i marchigiani non andrebbero, per cui ho legami che vanno veramente dappertutto, quindi le marche mi appartengono direttamente, purtroppo anche quelle da bollo. Presidente Marrocchi, quindi dopo la testimonianza di Pippo Franco, che ovviamente è stata molto aperta e molto anche verso questa nostra regione, molto vicina. Senz'altro noi siamo felicissimi di ospitare qui a Trudica di Morovalle Pippo Franco, un artista molto importante che farà qui da noi, come ci ha spiegato poco fa, sia una testimonianza di fede e che unirà questa testimonianza di fede al suo spettacolo, che farà poi anche ridere. Noi abbiamo cercato in questa festa del Sacro Cuore di fare diversi eventi, uno differente dall'altro, sia nell'arco di una settimana. È vero che forse è un po' lunga la festa, però abbiamo cercato di coinvolgere sia le realtà locali, ragazzi di Trudica, musicisti del posto e sia già personalità molto importanti come Pippo Franco e complessi musicali che hanno già una carriera dietro, importanti che vengono anche da grandi città. Beniamino Stizza, buonasera a tutti. Anche lei ha dato un grande apporto a questa festa. Ci siamo dati da fare tutti quanti, abbiamo lavorato per fare in modo che questa festa si riesca nel migliore dei modi. Nei momenti particolari ci ha dato la mano anche lui, per carità, però io con il ringraziamento più grande lo darei a tutti i cittadini e con il loro contributo ci permette di fare quello che si sta facendo.